Andrea Telechi, una ventisettenne di origini rumene, è deceduta mentre viaggiava con il marito su un Alfa Romeo 156, lungo la strada provinciale 78 bis di Carbonia nella notte tra venerdì 9 agosto e Satato 10. La giovane ha perso la vita dopo che l'auto, guidata dal marito, un 32enne di Carbonia, è finita in una scarpata nel tentativo di evitare un animale che aveva attraversato improvvisamente la carreggiata. A bordo del veicolo c'erano anche il loro figlio di 6 anni, rimasto illeso, e un uomo di 54 anni. I carabinieri di Carbonia, intervenuti per i rilievi, hanno accertato che l'autista ha perso il controllo dell'auto proprio nel tentativo di evitare l'animale. Il marito della vittima e il 54enne sono stati trasportati in ospedale con ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. Purtroppo, per Andrea non c'è stato nulla da fare, è morta poco dopo l'impatto, che si è rivelato fatale. La giovane viaggiava sul sedile anteriore, mentre il bambino e il 54enne si trovavano sui sedili posteriori. I feriti sono attualmente ricoverati e affidati alle cure dei sanitari. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'incidente e ulteriori dettagli saranno disponibili una volta concluse le verifiche. Con la chiusura delle indagini saranno organizzate anche le esecue per la 27enne, che viveva nei pressi di Carbonia pur avendo origini rumene.